bella ragazzi siamo su fifa 15 per fare l'ennesimo pack opening e si della serie ragazzi consideriamo questo della serie in un battolo scappare amici miei e si a parte vedere ragazzi scusate non so perché questa brutta videocamera anche in hd faccia la messa a fuoco comunque ragazzi oltre a vedere l'evantos che è il migliore mercatore non ce ne frega una sega ragazzi possiamo andare a vedere nel negozio speriamo che l'orario sia buono ragazzi perché di solito verso sono le 12 e mezza ragazzi e ragazzi adesso ci metto un'ora è comunque è normale dai porca la paletta ragazzi mi faccio un bisolino vediamo ecco qui ragazzi attualmente il negozio non è disponibile ragazzi è una maledizione e ce l'hanno commettere quando devo fare il pack opening ecco qui ragazzi magari se contatteremo adam cadmon riusciremo a risolvere questo problema finalmente ho fatto il suo nome e tutto è ritornato a posto ragazzi ci sono ehm comunque ragazzi c'è la squadra della settimana possiamo vedere andone grissimano 86 poi tiff robin ronda 3 che nel precedente pack opening abbiamo provato a prendere ragazzi ma niente poi andonino candreva della lazio 84 pirlo della juendus david di silva si mi sembra che sia sif ragazzi rolando ma perché c'è rolando ragazzi rolando nella squadra la settimana e non è voluto venire neanche nella nostra squadra preferita ragazzi ma proprio in serio iniziamo con i pacchetti ragazzi vediamo questa volta è andato come un razzo ragazzi si a noi ce ne può fregare meno primo pacchetto ragazzi vediamo e il tuo amico partecipa e noi parteciperemo dopo domani comunque ma dai no ma porca paletta capo re ragazzi ma ricordo che sono dieci pacchetti ragazzi soltanto giocatori non vediamo l'ora ragazzi dai hazard portami qualcuno dai ma vaffanculo si ragazzi farman dello shalky 04 e shalky 04 ragazzi gli agendoni ci sono anche ragazzi eh sì ovviamente poi è irtegun ma che cazzo sei ma ragazzi sono senza parola ottavo pacchetto vediamo e se c'è qualcuno dai messi porta messi ragazzi ma vaffanculo lo scugnezzo napoletano ragazzi lorenzo in zigna peraltro ce l'ho if quindi non mi servirebbero non mi servirebbero una mazza ragazzi gli argentoni come al solito prendete ci sono sempre magari in questi pacchi opening ragazzi io quando carichi video faccio un avviso e intanto proseguiremo con i pacchi opening magari io nel titolo inserisco non i giocatori che ho trovato nel pacchi opening eh perchè ci sono alcuni che inseriscono messi tiff e poi non lo trovano io non lo trovo io scrivo ragazzi come ho fatto nel precedente roben tiff punto interrogativo e voglio dire lo troviamo? no entanto troviamo lo schifo ragazzi troviamo tra zores non so come cazzo eh cavolo si chiama pranic che una volta giocava nel paio monaco ragazzi vanginca del mila ahahahah mazza lo so che alcuni sono doppioni eeeh lo c'ho sta eeeh si presentation i super bomber della UN scat dai dai vediamo chi esce dai 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 oh cazzo si ragazzi non è niente male si tranne prima argentone e chiuit vabbè vermalen ragazzi è filippa luiz poi shinjo kazaki vabbè ho presione da vedere e non mi dire che sblocca tutto ok ragazzi oh ne è stato male ragazzi lasciamo stare il candor perché sennò poi si mette a piovere 5 rocchetti rimasti ragazzi vediamo dobbiamo fare la velocità della flash ragazzi si di flash ah porca miseria forse adesso ho tempo ragazzi fabbio borini l'avevamo perso ma porca miseria alla videocamera vaffangina vai menetz ce l'ho if si abbiamo trovato cr7 poi non è vero dai non ci posso credere ragazzi faremo la collezione di tazzini avrete intervisto giordi alba e poi si saul che cazzo è poi lorenzo insigne per la quarta volta almeno io non sai si posso accettarlo ragazzi però che tu mi metti saul che cazzo dico e sale di mare dai tre pacchetti ragazzi vediamo aspetta non parla messa a fuoco non parla perché mi stai un po' sulle scatole si ragazzi ma cica avril dai in queste in questo oro di pasqua ragazzi troviamo eh ruben bardo argendone vabbè ehm granero giocava nel armado idcom tutti i doppioni eh sia gli altri trovano i giocatori if ragazzi ma che cazzo Ebbè ragazzi, facciamo la spesa a nulla Ragazzi, stavo facendo un epic fill e stavo dicendo Eh sì, soltanto due argendoni abbiamo e tutti gli altri doppi Dai ragazzi, impossibile Mohamed sarà per la millesima C'è il stagio? No ragazzi, ci ho visto dopo Buon era Il teguno Che cazzo Sì, è un buono Sì ragazzi, forse Ramirez possiamo venderla un po' Comunque ragazzi, per questo back opening è tutto Ci becchiamo alla prossima su FIFA Magari si sta avvicinando il giorno di San Patrizio Farò la migliore rosa irlandese Affrettatevi a farla ragazzi È utile perché se no Se è arrivata il giorno di San Patrizio Spenderete una totale fortuna Ci sono passate Se vi è piaciuto il video lasciate un like ragazzi Una condivisione Iscrivetevi al canale Potete darmi dei consigli Su una serie da fare su FIFA Ragazzi, vi saluto Ciao ragazzi Un saluto da Jimmy J. Franklin 93 Ciao ragazzi Scusate Ciao ragazzi Ciao ragazzi